Buongiorno a tutti, sono Davide Porporato, insegno antropologia culturale all'Università del Piemonte Orientale. Mi sono vaccinato e invito tutti a vaccinarsi perché dobbiamo ritornare a vedere i giovani nelle scuole e all'università, studenti tra studenti. Vaccinarsi è fondamentale per riprendere una vita di relazioni sociali e affettive. Non possiamo continuare a vederci e a parlarci attraverso un monitor. Forte è il bisogno di salutarci almeno con una stretta di mano, di pranzare insieme e soprattutto di rivedere il viso e il sorriso delle persone che ci stanno accanto.